Ultima gara prima della pausa per le nazionali per un sassuolo che in campionato non vince dal 27 settembre e che ora ha assolutamente bisogno di punti per cambiare volto alla classifica che vede la zona calda avvicinarsi. La sfida contro il fanalino di coda salernitana diventa dunque una di quelle da non sbagliare. È una partita importante, sì, una partita importante perché viene prima di una sosta. In questo miniciclo di partite abbiamo fatto prestazioni non positive perché Lazio e Torino sono due prestazioni non positive, le meno positive di questo inizio stagione e sono tutte in questo miniciclo. Quindi è l'ultima di questo miniciclo, è una partita, è uno scontro diretto, è una partita importante, la giochiamo in casa e ovvio è una partita che può determinare tanto. In questo inizio di stagione il sassuolo ha avuto un rendimento altalenante, raccogliendo vittorie sorprendenti contro Inter e Juventus per poi deludere in altre sfide più alla portata. Realmente questo alto e basso ce l'abbiamo sempre avuto e in questa stagione sicuramente dà fastidio essere già etichettati come quelli che, ma anche quelli che, a me dà particolarmente fastidio perché non siamo, non vogliamo essere questo e non voglio una squadra così e te la descrivo parlando del noi. Io riconosco più il noi in alcune partite e più io in altre partite. L'ho già detto ai ragazzi. Se giochiamo pensando a io e a lui, e a lui mi spiego meglio, io che guardo al mio compagno, io che guardo ad un'altra persona, non è il noi. Io devo lavorare per il noi. E il noi poi riconosce all'io. Perché poi se dopo hai qualità, nel noi l'io si esalta. Non è mai il contrario. E vedo tanto noi in certe partite e poco noi o comunque il noi secondario rispetto all'io in altre partite. E questo non va bene. Il momento che sta vivendo il Sassuolo non è semplice, ma mister Dionisi non vuol parlare di preoccupazione e cerca equilibrio nell'approccio alla situazione. Non sono mai preoccupato. Se uno fosse preoccupato dovrebbe alzare la mano e dire sono preoccupato, forse è meglio che non prendo decisioni perché con la preoccupazione prendi decisioni affrettate e sbagliate. Io credo di essere abbastanza lucido. E' ovvio che, dire contento per niente, ma difficilmente sono contento. So riconoscere i momenti più o meno difficili e starci dentro. Dobbiamo imparare a fare quello. Perché se ti prepari a non vivere mai questi momenti è ovvio che non ci sai stare dentro. Poi non ti devono piacere questi momenti. Perché se poi dopo ti piacciono troppo forse sei un po' masochista, però al tempo stesso per poter crescere devi sapere stare dentro a tutti i momenti e combatterli. Ma combatterli tutti, perché poi non sono solo quelli negativi, ma anche quelli positivi se non li combatti non ritornano. Ora noi non siamo in un momento positivo, ma non siamo in crisi. Ovvio che i risultati non sono all'altezza di quello che volevamo, ma dire la parola preoccupazione non è davvero nelle mie corde, non deve essere nelle corde di questa squadra, perché altrimenti ci verrebbe il piedino corto, la gambina corta. E questo non deve succedere, o perlomeno lo dobbiamo combattere, perché da fuori potrebbe arrivare, ma a noi non ci deve interessare questo. Anche domani i neroverdi dovranno fare a meno a centrocampo di Mateus Enrique. Il brasiliano ha saltato le ultime cinque partite tra campionato e Coppa e la sua assenza si fa sentire. Per quanto riguarda noi, a parte Mateus Enrique, dovrebbero usare il condizionale, perché dobbiamo ancora allenarci, però dovrebbero esserci tutti, a parte Mateus Enrique e Obiang. Mateus Enrique, nelle sue caratteristiche, è unico nel nostro centrocampo. Per questo uno può pensare anche che non sia insostituibile, perché se è unico, lui può giocare, ma ci sono altri che potrebbero essere allo stesso tempo unici anche loro. Sicuro che dopo, questo è il terzo anno di Mateus, al terzo anno è diventata una certezza, però ora parlare di lui, non lo ritengo superfluo, perché Mateus è un giocatore che è cresciuto, è un giocatore importante per questa squadra, ma domani non farà parte della partita. Quindi, non vedo l'ora di riallenarlo, ma come non vedo l'ora di riallenare anche Pedro, ma al tempo stesso devo pensare a chi c'è, senza togliere energie mentali, a chi c'è, pensando a chi poteva esserci e non c'è. Quindi, ovvio che se un giocatore diventa importante, non averlo può pesare. Al tempo stesso, questa squadra ha dimostrato di fare a meno anche di altri giocatori importanti e così dobbiamo fare.